Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge c'è di più. La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Eccoci di nuovo insieme sempre qui con il nostro appuntamento dedicato al mondo dell'economia finanziaria, insieme alla finanza, amichevole, ma soprattutto al nostro consulente finanziario Alessandro Fatichi. Ciao Alessandro! Ciao a te. Allora, Alessandro, perché abbiamo bisogno di capire oggi, insomma, ci sono tanti argomenti sulla carta, però rispieghiamo un attimo che cosa abbiamo raccontato, insomma, ai nostri amici, alle nostre amiche a casa nelle precedenti puntate. Allora, abbiamo affrontato quello che è l'inizio di tutto il mondo economico-finanziario, quindi siamo partiti addirittura dalla paghetta, poi spiegando quello che è il concetto del denaro del risparmio e poi anche quello che è il concetto del prestito, del finanziamento e di che cosa serve, che cosa dobbiamo analizzare per questa tipologia di cose. Però una volta che abbiamo affrontato questi argomenti arriviamo al punto clou di quello che riguarda il concetto del risparmio e cioè poi ho i risparmi ma li devo investire. Oh, infatti oggi parleremo proprio di questo, degli investimenti, ma soprattutto, però facciamo un passo indietro perché quando parliamo di investimenti dobbiamo per forza introdurre il modo del mercato, ma il mercato che cos'è? Allora, i mercati finanziari, allora, diciamo, si chiamano mercati perché anticamente tutto quello che riguardava la contrattazione delle merci avveniva nei mercati, è per quello che si chiamano mercati finanziari, proprio nella maniera più semplice possibile. E sui mercati finanziari avviene tutta quella che è la contrattazione, la regolamentazione, sia che si parli di azioni, di obbligazioni, titoli di Stato, valute, materie prime e quindi è anche giusto spiegare che cosa sono tutte queste voci perché alla televisione se ne sente parlare tutti i giorni, soprattutto quando, devo dire, quando calano i mercati finanziari e per fare notizia al telegiornale la famosa frase bruciati miliardi, ma non brucia niente, è semplicemente un andamento positivo o negativo perché per tornare al concetto dell'investimento ho una perdita se vendo, ma se mantengo un investimento in attesa che recuperi, in quel momento lì non ho una perdita, ma per fare una piccola parentesi. No, certo, però ecco perché comunque quando sentiamo la parola mercato pensiamo appunto, come dicevi prima, alle merci, ma in realtà qua è tutto un pochino più criptico e quindi però in realtà fino a un certo punto perché comunque andiamo appunto a vendere o acquistare, a vendere o acquistare. È un concetto proprio di domanda e di offerta pronto per i mercati e si parla di beni fisici e parliamo un po' dal concetto delle materie prime e dove ci sono i mercati dove c'è la contrattazione delle materie prime e quindi in primis petrolio, oro, tutte le materie prime sia agricole, energetiche e è un concetto di domanda e di offerta dove vengono negoziate, si dice, tutte le materie prime e quindi che hanno un valore che poi si ripercuote sui beni di prima necessità che acquistiamo tutti i giorni. Cioè il valore è proprio il prezzo. Il prezzo, assolutamente, quindi è un discorso di domanda e di offerta, c'è chi compra e c'è chi vende. Questo concetto vale per tutti gli asset finanziari, quindi che si parli appunto di materie prime, di azioni e le azioni che cosa sono? Le azioni non sono le materie prime, perché le materie prime appunto come ho detto si parla di beni. Le azioni riguardano sostanzialmente il pezzetto di una società e quindi a tutti gli effetti una persona investe in azioni, diventa appunto azionista di quella società con la speranza che questa società cresca e quindi automaticamente cresce il valore di quella società. Prende una parte di una società, cioè quando io investo, quando io investo su un'azione di una società? Esattamente, perché io a tutti gli effetti compro un pezzetto di quella società e divento appunto azionista, sperando che questa azione cresca. Il concetto dei titoli di Stato e delle obbligazioni è esattamente all'opposto, e cioè il titolo di Stato non è altro che un titolo appunto di uno Stato, prendiamo i nostri titoli di Stato italiano, BOT, BTP o CCT, e quindi che lo Stato emette questi titoli per poter finanziare la spesa corrente oppure quello che deve sostenere come spesa nell'arco, non solo nel quotidiano, ma durante tutto un anno. A quel punto che cosa succede? Emette questi titoli, in poche parole, chiede i soldi in prestito ai risparmiatori e al risparmiatore viene dato un interesse e alla scadenza restituiti i soldi investiti. Quindi sono due cose completamente diverse perché… Non investiti, giacca e cravate, no, 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 assolutamente. Quindi il discorso qual è? Azione divento quindi azionista o una partecipazione, quindi spero che l'azione cresca. Sì. Per quanto riguarda un titolo di Stato o un'obbligazione, che però il titolo di Stato riguarda appunto uno Stato, un Paese, un'obbligazione riguarda una società, lì sono io che sto prestando i soldi allo Stato o alla società, quindi è un cosiddetto debito che lo Stato o la società ha e che quindi in quel caso lì è l'opposto, perché nell'altra puntata abbiamo parlato di prestiti e di mutui, quindi sono io che ho un debito, in realtà in questo momento è lo Stato, la società, che con i titoli di Stato o le obbligazioni diventa a sua volta un debito e che dà a me un tasso di interesse perché a quel punto lì è il risparmiatore che presta i soldi allo Stato. Cosa che invece l'azione è esattamente all'opposto. Ma cambia anche lì, quindi il tasso, cioè c'è sempre anche lì un tasso di interesse? Certo, e il tasso di interesse è in funzione del momento, perché quando viene messo un titolo di Stato o un'obbligazione viene stabilito quello che è un tasso di interesse, che generalmente è fisso nell'80% dei casi, ci sono anche tasso variabile come i CCT, ma solitamente è fisso, quindi lo Stato italiano emette un titolo di Stato che sia un BTP. Ma faccio un esempio proprio concreto, che vuol dire BTP? Allora, buoni del tesoro poliennali, quindi che hanno una scadenza per più anni, mentre i CCT sono i certificati di credito del tesoro, ma sostanzialmente la differenza sostanziale qual è? è che i BTP hanno una cedola di interesse a tasso fisso, il CCT ha una cedola di interesse a tasso variabile, che va in base al mercato o alla situazione del momento, questo per fare, però la cosa fondamentale è che sono titoli di debito per lo Stato che li emette, quindi è per quello che a volte quando si parla che è del nostro caro debito pubblico in Italia, che è particolarmente grande, e che anche l'emissione dei titoli di Stato va a aumentare quello che è il debito pubblico, però che in questo caso lo Stato emette, perché come dicevo prima, per poter sopperire a tutte le necessità di cassa e di spese finanziarie che uno Stato deve avere, anche semplicemente da rifare gli acquedotti, le strade, tutte le spese che uno Stato deve sostenere. Quindi azione diventa un'azione, compre un pezzetto di una società, lo compro io? Lo compro fisicamente, quando compro un titolo di Stato o un'obbligazione, divento creditore io in quel caso, perché il debito ce l'ha lo Stato o la società, poi per rimanere nel tema degli investimenti, quando si parla di fondi comuni di investimento, sono prodotti dove racchiudono tutte queste forme che ho detto prima, fondi comuni di investimento azionari dentro il fondo ci saranno tantissime azioni, fondi comuni di investimento obbligazionari ci saranno titoli di Stato piuttosto che obbligazioni dentro questi contenitori e comunque l'investitore compra un pezzetto di questi fondi per poter far crescere il proprio patrimonio. Domanda proprio così brucia a pieno, ma quindi la borsa in questo momento è quella più importante del mondo e quando si parla di borsa ci devi spiegare che cos'è, qual è quella più importante, cioè nel senso quella che funziona meglio adesso? Allora, più che adesso che funziona meglio, la borsa valori e dove c'è la contrattazione di tutte le società quotate è chiaramente quella americana, che è quella più grande in assoluto e che se vogliamo è anche il termometro mondiale, anche se negli ultimi 20 anni è cambiata sensibilmente la dinamica delle potenze mondiali, con i paesi asiatici, Cina e India in primis, che ovviamente non tanto a piccoli passi, ma stanno arrivando a livelli, si dice, di capitalizzazione quasi come quella americana. Quindi oggi il termometro e la borsa principale mondiale è sempre quella americana, ma qui dobbiamo parlare proprio di potenze economiche mondiali e che negli ultimi 20 anni questo cambiamento a scapito soprattutto dell'Europa, che invece sta perdendo sempre più terreno a livello mondiale, a vantaggio di tutti i paesi asiatici, Cina in primis e India in sensibile aumento, se vogliamo analizzare questo aspetto. Parlando di mercato finanziario, si sente spesso dire anche questo termine spread. Alessandro, ma cosa significa? Allora, lo spread non è altro che il differenziale tra i titoli di Stato tedeschi scadenza a 10 anni e i titoli di Stato sempre a scadenza a 10 anni degli altri paesi europei. Perché è importante e perché viene anche citato spesso? Perché più questa differenza tra il rendimento del titolo di Stato tedesco a 10 anni e prendiamo il nostro BTP, titolo di Stato italiano a scadenza a 10 anni, più questa differenza è bassa o è simile e considerando che la Germania è il paese più solido in questo momento a livello europeo, quindi più questo valore si avvicina, più il paese è considerato solido. Infatti basti pensare qualche anno fa, quando c'è stato un momento dove eravamo in forte crisi finanziaria in Italia, dove addirittura lo spread tra i titoli di Stato tedesco e quelli italiani è andato al valore di 500, vuol dire 5 volte superiore a quello tedesco, quindi vuol dire che il rischio sull'Italia era 5 volte superiore, cosa che invece ora ultimamente il valore dello spread attuale è intorno ai 160 punti, 170, 180, 140, dipende dai momenti. Che sarà un periodo o tra l'altro. E quindi questo valore si è sensibilmente riallineato e partiamo da un presupposto che quando sentiamo parlare di questo valore, quindi 100 lo consideriamo come il punto, come se fosse quasi di, non voglio dire di pareggio, perché pareggio è a zero, ma possa essere più basso possibile per essere considerati più solvibili possibili a livello europeo rispetto alla Germania. Poi se addirittura, se arrivasse al punto dove la situazione si inverte miracolosamente e diventa negativo, vuol dire anche che noi diventiamo più solvibili dello Stato tedesco e quindi potrebbe essere un augurio che in Italia potremmo sperare. Lo ritengo un po' complicato, però era per spiegare la differenza sostanziale è il livello di solvibilità del nostro paese rispetto alla Germania che è considerato il paese più solvibile a livello europeo. Io vi ricordo di seguire Alessandro Fatichi con la sua pagina Facebook, il sito internet, i podcast, la finanza amichevole, ma soprattutto Alessandro ha un gemello digitale. Sì, è vero, all'interno del sito www.finanza-amichevole.it trova anche oltre ai podcast, quindi le pillole audio, anche il mio gemello digitale che con il quale può dialogare 24 ore su 24, è un servizio di intelligenza artificiale, e chiedere tutti i temi inerenti l'educazione finanziaria. Cosa significa muoversi liberamente, scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti? Lasciati ispirare da Muoversi Liberamente, tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.